Salva con nome c'entra, mette a fuoco delle parole chiave dell'innovazione, tag li chiamiamo noi. Quella di oggi è il futuro del passato, è un concetto più che una tag sintetica, è proprio un concetto aperto, è anche un po' metaforico, è anche un po' divertito il nostro approccio a questo concetto che sembra un paradosso. Qual è il futuro del passato? Ce ne parla Francesco Antinucci che è direttore di ricerca al CNR. Il futuro del passato, come lo intendiamo noi, è il fatto che la ricostruzione del passato, l'apprezzamento del passato, la nostra figurazione del passato è cambiata radicalmente grazie alla tecnologia. Questo è il punto centrale di questo concetto. E c'è una tecnologia in particolare che sono le realtà virtuali, il virtuale ha messo in campo una potenzialità inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Ora, è interessante capire perché, perché da una parte ha fatto queste ricostruzioni, le ricostruzioni un po' si sono sempre fatte però, anche nel passato, no? I modellini. I modellini, i disegni ricostruttivi, ce ne sono di bellissimi, soprattutto degli inizi del Novecento, della fine dell'Ottocento. Perché è diverso, invece, quello che sta succedendo adesso? Beh, è diverso un po' come per tutte le tecnologie digitali, per due motivi. Uno è la scala in cui si può fare questa cosa. E cioè si può fare ad una scala tale che prima non era possibile. La seconda è quell'altra caratteristica fondamentale delle tecnologie digitali, l'interattività. E cioè, io con la tecnologia del passato potevo fare una cosa, una ricostruzione, una visione e così via. Adesso non più. Adesso, una volta che costruisco i miei modelli ricostruttivi carichi di tutte le mie conoscenze, posso farci, posso percorrerli, come si dice, posso starci dentro. Questo è l'elemento di novità sostanziale, fare esperienza, non solo vedere. Bravo, hai detto la parola giusta, è fare esperienza, è questo. Ora, perché, allora domandiamoci, ma perché è così importante fare esperienza? Beh, perché ha a che fare con un modo completamente diverso con il quale noi impariamo, apprendiamo le cose e capiamo le cose soprattutto. Quando ne facciamo, un po' potete pensarci anche, diciamo, dal punto di vista della quotidianità, no? Quando diciamo fare esperienza, intendiamo che hai imparato per esperienza, vuol dire hai imparato bene, hai imparato qualcosa provandola, no? Ecco, ma c'è un senso vero di questo. Il senso vero è che quando noi possiamo vedere e toccare le cose, e dico apposta vedere e toccare, mettiamo in campo il nostro sistema di apprendimento preferito, e cioè quel sistema che è basato sulla percezione e sull'azione. Mentre, se non possiamo percepire e non possiamo toccare, dobbiamo mettere in campo un altro sistema, che è il sistema della parola, del simbolo, astratto. Ora, tra i due accade che il primo è molto più potente. È chiaro che rispetto a una crisi dei modelli educativi, perché stiamo assistendo proprio anche in questi giorni, andai non da una trasmissione su Rai 3 importante, proprio sulla crisi del modello del sistema scuola, in Italia, in particolar modo rispetto a questo tipo di soluzioni, che non sono solo tecnologiche, quando parliamo di multimedialità si riferisce a un lavoro sulla percezione dei ragazzi, dell'attenzione. Sì, parliamo adesso dei ragazzi perché, va detto, Francesco Antinucci si è occupato per moltissimi anni, ma tutt'oggi, di educazione. Un suo libro per la terza porta un titolo emblematico, è Francian, la scuola si è rotta. Di quanti anni fa era? Sei, sette anni? Sei, sette anni fa, ma potrebbe andare benissimo anche oggi. Vediamo se ricomporla questa scuola. Beh, appunto, è legato a quello che dicevamo un minuto fa, e cioè la nostra scuola è caratteristica proprio per avere un approccio invece all'istruzione, all'apprendimento, puramente simbolico, puramente libresco, non da esperienza. Non si vede, non si tocca, non si fa. E questo non ci piace. Cioè, noi usiamo quell'apprendimento se non possiamo fare altro. Ora, nel caso del passato, per tornare al nostro tema, era uno di quei casi in cui non potevamo fare altro perché le cose del passato non ci sono più, non si vedono, sono scomparse. E dunque dobbiamo per forza ragionarci sopra con l'immaginazione. No, non è più così. Adesso noi riusciamo a creare cose che non ci sono più. Perché allora abbiamo il teatro. Certo, il teatro era... La letteratura, la simulazione psicologica, con il virtuale c'è un'evoluzione di questa condizione. Sì, è vero, hai ragione. Se vuoi è più simile a questo tipo di cose. Solo che lì era limitata, e anche limitata dal punto di vista di quello che puoi fare, non solo tecnico, ma anche dal punto di vista delle risorse che devi mettere in campo in quei casi. Invece in questo caso qui, tu puoi fare da una parte la ricostruzione, è ancora più bello, puoi fare altre cose. Puoi fare le simulazioni, cioè puoi fare vedere e comportare dei mondi che non esistono e che non si possono vedere. In questo senso, un punto importante della tua analisi, della tua ricerca, è proprio il superamento del format del museo. Di come il museo è rappresentato per secoli. Neanche tanti, perché quando è che nasce il museo? Quando mi è inventato il museo? Il museo nasce in una creazione settecentesca. Con l'illuminismo, tutta quell'onda lì. È alla base dell'illuminismo e quello che c'è da dire è che rimane una creazione settecentesca e non si muove. Benché qualcuno pensi che l'epoca dei grandi musei, l'Ottocento, in un certo senso è così, lo storicismo non è mai entrato nei musei. I musei sono rimasti questo catalogo, grande catalogo, grande tassonomia. Questa grande addizione. Questa grande addizione dove le cose sono ordinate per catalogo, per genere e specie. Una soluzione per intravedere il superamento del format museo? Beh, vedi, bisogna separare nettamente la funzione del conservare e dell'ordinare a scopo di studio, che è quella invece in base a cui è stato fatto il museo finora e che tuttora domina i musei. I musei sono un catalogo di cose. Allora, chi conosce la materia va lì e trova sullo scaffale quello che vuole, da guardare, quello che gli serve. Ma chi non conosce nulla, di fronte a un catalogo, è come dirgli, benissimo, adesso tu impari l'italiano e io ti do il vocabolario italiano per imparare. Come faccio? È chiaro, non hai bisogno del vocabolario, hai bisogno di un manuale. Il museo deve diventare un manuale. Istruzioni per l'uso. Esatto, deve diventare un percorso nel quale viene raccontata una storia e nel quale la storia viene fatta vedere. Non si può lasciare in questo stato. Se lo lasciamo in questo stato, purtroppo abbiamo i risultati che noi che studiamo questi fenomeni sappiamo e andiamo a vedere sul campo. Quindi per concludere, per provare a cercare di mettere insieme un po' questo nodo che mette in relazione le tecnologie, i beni culturali e l'apprendimento, qual è una definizione sintetica di questo inanellamento dei tre fattori? Vedi, il parallelismo resta sempre lì. Per lo stesso motivo per il quale i visitatori non si trovano bene nei musei, i ragazzi non si trovano bene a scuola. E la cosa è aumentata. Prima ti ho detto, per fare questa differenza tra i due sistemi di apprendimento, noi usiamo il sistema simpatico solo quando siamo costretti. Ora, che succede nella scuola di oggi? E che succede anche dentro la cultura visiva di oggi? I beni culturali, quelli che chiamano i beni culturali. Succede che abbiamo delle tecnologie che ci fanno vedere e toccare le cose. Se non le usiamo, ma i ragazzi lo sanno perché tutti i giorni sono a contatto con queste tecnologie, tutti i giorni lavorano con queste tecnologie, quindi sanno che c'è un altro modo di imparare le cose, sanno che c'è un altro modo di scoprirle, di vederle e di capirle. E quindi non sono disposti più ad accettare quel modo faticoso dovuto a una limitazione tecnologica. Riusciremo mai a mettere in agenda della politica nazionale questi argomenti che di fatto sostituiscono lo sviluppo industriale di 50 anni fa? Che possono essere una delle chance per il Paese per rimettersi in gioco a tutti gli effetti? Guarda, se ci riuscissimo sarebbe, come dicevi anche tu prima, una soluzione non solo di questi problemi, ma anche del ruolo del nostro Paese, del futuro del nostro impiego, della nostra economia. Purtroppo devi immaginare che fare cambiamenti di questo genere è difficile. Cambiare la scuola nel modo in cui diciamo, o cambiare anche il museo nel modo in cui diciamo, è molto difficile. Le persone preposte che ci lavorano dentro non capiscono bene questo discorso. Io capisco che non lo capiscono, non è semplice vederlo. Non è semplice venendo da un'altra cultura porsi questo problema. Io posso dire una sola cosa, che chi lo farà per primo avrà trovato l'Eldorado. Noi come salva con nome seguiremo questo fenomeno che riguarda le dinamiche dell'innovazione. Grazie per l'attenzione.